Ciao, sono contentissima di avervi di nuovo qui. Oggi ci sarà una fiaba, una fiaba di Capodanno, infatti sarà Capodanno a Bosco Piano. Rincontreremo tutti i nostri amici e festeggeremo con loro il Capodanno. Intanto, come sempre, vi dico iscrivetevi, condividete, cliccate sotto con il like e adesso buon ascolto! Capodanno a Bosco Piano La luna splendeva bianca e placida nel cielo blu. L'aria era gelida, ma nella piazza di Bosco Piano tutto era pronto per festeggiare la fine dell'anno. Attorno al grande abete decorato, tutti si affaccendavano. Del chiosco delle bevande calde si occupava la signorina Oliva. Era un'esperta di tè orientali ed assieme alle cioccolate offriva tazze di tè esotici, coppe di budino con la panna e latte miele. Poco lontano al banco del tirassegno ci si sfidava al lancio delle palle di neve. Il bersaglio era un ritratto del sindaco, il quale si vantava baldanzoso di essere il Bosco Pianese con la mira migliore e intanto si colpiva il nasone con una raffica di tiri precisi. Vicino alla fontana ghiacciata avevano disposto i tavoli e le panche e dall'altra parte c'era la tettoia che erigevano tutti gli anni per i bambini di Bosco Piano. Così, mentre i genitori chiacchieravano e festeggiavano, i più piccoli potevano stare nel calduccio della costruzione in legno in cui si trovavano coperte, cuscini e trapunte. Sotto la vigilanza della signora Zaira i bimbi erano al sicuro e fino a quando stavano svegli lei li intratteneva con barzellette, fiabe ed indovinelli. Arrivavano lì dopo cena e nel calduccio di quel rifugio sicuro non ci mettevano molto a crollare dal sonno. Prima però aspettavano tutti la fiaccolata. Infatti si videro le torce cominciare a danzare lungo la collina. Con in testa i due gemelli Hans e Arthur la fiaccolata procedeva in un ondeggiante percorso. Quando gli sciatori raggiunsero la piazza passarono da uno all'altro degli abitanti di Bosco Piano accendendo una ad una le lanterne di carta che avevano decorato appositamente. Tutta la piazza si illuminò di mille lanterne punteggiando Bosco Piano di luci tremolanti. Il signor Argo col suo vocione diede il via ai canti intorno all'albero di Natale che avevano decorato tutti insieme. Le voci si alzavano al cielo. Ognuno teneva per mano il suo vicino. Grandi e piccoli cantavano insieme per salutare l'anno vecchio e dare il benvenuto a quello nuovo. Poco a poco il serpentone si mosse lentamente attorno all'albero. Poi cominciò a risalire la collina fino all'albergo di Hans e Arthur. I gemelli che avevano portato le fiaccole per accendere le lanterne. Appena furono tutti sul promontorio il canto si interruppe. Il sindaco, il signor Fulmine, si fece avanti tenendo alta la lanterna. Caro anno vecchio, ci hai donato 12 mesi di allegre risate, grandi amicizie e nuovi incontri. Siamo qui per salutarti come si saluta un vecchio amico. Fai buon ritorno al paese del tempo e ti promettiamo di fare del nostro meglio nell'anno che verrà. A quel punto il signor Fulmine lasciò volare via la sua lanterna, che fu seguita dalle lanterne di tutti gli altri. I bambini si lasciarono sfuggire un oh di meraviglia. Le piccole luci che riempivano il cielo scuro portavano con sé i buoni sentimenti che li avevano accompagnati durante l'anno passato, ma portavano via anche i piccoli errori, i dispetti e i capricci. Così, col nuovo anno, avrebbero tutti potuto ricominciare da capo, cercando sempre di essere i migliori se stessi. Intanto qualcuno era rimasto a valle. Nella capanna di legno il braccio era acceso e emanava il caldo tepore delle bracci e la signora Zaira teneva per mano un bambino. Come ogni anno, lei aveva l'onore di restare lì, ogni volta con un diverso bimbo. Perché ogni anno era diverso dall'altro e quel bimbo sorridente era il vecchio anno pronto a partire per tornare a casa. Mi raccomando, fai il bravo e copriti bene, lassù ci sono certe correnti fredde. Non ti preoccupare, Zaira, non mi ammalerò. Torno a casa e non vedo l'ora. Anche se devo ammettere che i miei fratelli che mi hanno preceduto avevano proprio ragione. Venire a vivere in mezzo a voi per un intero anno è un'esperienza incredibile. Solo così possiamo conoscere quanto sono profondi i vostri cuori. L'amicizia di Boris e Calimera, l'entusiasmo del signor Fulmine, l'allegria del signor Argo, la spensieratezza della signorina Oliva, sono tutti doni speciali. E l'amore, come quello che doni tu a tutti i bambini, è ancora più incredibile. In lontananza si videro le lanterne che sparivano come lenticchie luminose lanciate oltre il promontorio. Zaira sollevò la mano e lasciò andare anche lei la sua lanterna. Il vecchio anno l'afferrò e si lasciò trasportare via. Sorrideva felice, mentre da qualche parte quello nuovo arrivava, per ricordare al mondo che ogni nuovo inizio era una nuova occasione per essere migliori. E adesso voglio fare tanti tanti auguri di buon anno a tutti voi e vi auguro che il prossimo anno sia un anno meraviglioso, pieno di tutto ciò che desiderate e con tanto tanto amore. E mi raccomando, come sempre, clic, condividete, iscrivetevi. Ciao da Bookgate Magic!